Lo che mi avisa che nel momento di rinnovazione del luogo, se, per esempio, questo sarà, le persone non potrebbero un salario mensuale, e nel momento che hanno, non continuano con il contratto di lavoro in modo usuale, in qualche negozio. La mia intenzione è un po' più semplice, se metti un negozio, se metti un siman per rinnovare, il salario è un salario normale per il trattato. Un siman, pensiamo che è un periodo più largo per il motivo di rinnovazione del hotel, per il trattato del servizio, se non tommo il paquete sociale, che finalmente non si decide se è attrativo o non. Che cosa direttamente è il envolvimento del caso del governo, di un'intera situazione qui? Il departamento di lavoro, naturalmente, si è arrivato a Sinalè, un viaggio si è arrivato a Sinalè, che è un dono nuovo, che è un salario per il trattato, non è un dono nuovo, che è un salario per il caso del governo, chiedono un salario per i persone, per il motivo che non vogliono il paquete sociale, e poi si è arrivato a un certo momento, non ci sono un petici, se è il caso del departamento di lavoro, non è arrivato a Sinalè, e poi ci sono sempre attraverso un giudice, e poi chiedono un contatto, a base di un giudice. Il ruolo del governo, naturalmente, è importante, lo qual non sta purva di rasse di situazione qui, maniera sempre matrice per l'alante. Non c'è un'banda di interesse di un inversionista che vuole upgrade un hotel, mi dà questa recetta welcome, non c'è un prodotto nuovo, che lo può ingrandecer, è il prodotto che già ci stanno brindando. De caso che mi mi stia messo in quel hotel qui, mi stia messo in un momento in cui mi stia messo in un'inversione quantiosa, e poi mi stia a un livello back in cui mi chiede, e poi mi brindere il mio servizio ai nostri clienti. Mi stia messo in un'inversione di circa 40 milioni di dollari, che mi è stata naturalmente welcome nella nostra economia, ma è una banda di interesse finanziario anche di un inversionista, botte il diritto di trasladore con il mestre Wara e il salvaguardia, e questo è anche naturalmente il nostro parapè, sicuramente, come in questo lavoro.